A volte nei film si vedono gli sposi che si scambiano le famose promesse. Avete già pensato come scriverle? Se farvi aiutare? Come leggerle? Quando? Facciamo un passo indietro. Cosa significa promessa? Significa impegnarsi, assicurare. Spesso non si dà la giusta importanza a questo momento. Si pensa che non sia importante. Invece lo è molto. Si dona se stesso all'altro. Lo si fa davanti a tutti, guardandosi negli occhi, cercando di non emozionarsi troppo. Ecco perché non bisogna arrivare all'ultimo istante e magari scriverle di fretta, quasi non dando loro l'importanza che meritano. Scriviamoli insieme. Io ci sono.